Il Bosco di Vallefredda si sviluppa all'interno della proprietà del comune di Otricoli per un'estensione complessiva di 85.620 metri quadri. All'interno dell'area si snoda un percorso lungo complessivamente circa 850 metri che rappresenta di fatto il recupero delle piste forestali utilizzate dalla comunità montana per effettuare i lavori necessari ad avviarlo ad alto fusto. Il sentiero offre una duplice funzione, una salutistica dovuta alla sua percorrenza ed una didattica. Infatti lungo il sentiero sono presenti ben otto cartelloni che affrontano diverse tematiche legate alla natura e al bosco e che ci permettono di riflettere ed approfondirne alcuni argomenti importanti. All'entrata del bosco è presente un cartellone dove è riportata una cartina esplicativa del percorso e si sviluppa l'area picnic con tavoli, panche, cestini, barbecue e una fontanella a vostra disposizione. Ricordatevi sempre che il bosco offre innumerevoli possibilità di svago e di divertimento ma anche l'occasione per approfondire il proprio bagaglio culturale. Il bosco rappresenta una grande enciclopedia vivente, ricco di messaggi e segni che stimolano la capacità di osservazione e ci permettono di comprendere meglio l'ambiente.